Ci sono dei brani che finiranno nei nuovi real book Mi prendo il rischio di suonare uno dei brani che sicuramente finirà nei nuovi real book Quando schiatterò i giovani suoneranno questo brano qui Questa soddisfazione, cazzo, non me lo ho detto Cazzo, quando schiatterò Vai, va bene, facciamolo così Una volta la persona che ha scritto questo brano mi disse una cosa Siamo tutti figli e nipoti di Mainz eccetta Aveva ragione Vai 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 Vai